buongiorno a tutti oggi vedremo come convertire un numero da binario decimale la soluzione per questo tipo di conversione sarà un'implementazione di una semplice procedura con Scratch prima di avviare Scratch bisogna rivedere un po' a livello matematico come avviene la conversione noi abbiamo un numero binario di 4 bit abbiamo un primo passaggio dove si va partendo dal numero meno significativo al numero più significativo a inserire all'interno di questa tabella il 2 con la potenza di 0 nella posizione 1 sino ad arrivare sostanzialmente a 2 elevato alla 3 in quarta posizione essendo appunto del sistema binario come quello decimale un sistema di tipo posizionale il terzo step è quello di andare a moltiplicare il numero in binario per il corrispondente numero inserito appunto in questa riga l'ultimo step che ci dà il numero in decimale è quello sostanzialmente che va a fare la somma di questa riga luce step 3 e abbiamo quindi la possibilità di avere la conversione in modo abbastanza semplice ma prima di partire con Scratch è bene avere le idee chiare su come risolvere il problema quindi avremo 4 variabili che contengono il numero binario quindi questa la identificheremo come bit1 poi avremo bit2, bit3 e poi bit4 quindi in nome delle variabili avremo appunto il numero decimale che a questo punto sarà dato da bit4 che in questo caso è 1 moltiplicato per 8 bit3 moltiplicato per 4, bit2 moltiplicato per 2 e bit1 moltiplicato per 1 quindi noi memorizzeremo il risultato 9 in una variabile non decimale ok allora passiamo ora a Scratch e iniziamo appunto con l'implementazione di questa procedura che ci porterà poi come obiettivo finale a quello di avere la conversione di un numero da binario a decimale abbiamo detto prima che le variabili andiamo a creare le nostre 4 variabili quindi abbiamo detto bit1, bit2, queste sono quelle per quanto riguarda il numero in binario bit4 e poi abbiamo la variabile num decimale dove andremo ad inserire il valore finale ok quindi partiamo e andiamo diciamo ad implementare la nostra procedura e andremo a chiedere 4 volte il numero inserisci il primo bit ok inserisci il secondo bit inserisci il terzo bit e inserisci il quarto bit allora a questo punto noi dobbiamo memorizzare all'interno della nostra variabile che cosa la risposta alla richiesta appunto di dato e quindi abbiamo che bit1 in questo caso quindi ci spostiamo anche in questo caso per velocizzare la procedura le altre tre risposte nelle variabili questo è il bit2 quindi andiamo a cambiare qua un bit2 e posizioniamo qui dentro la risposta poi abbiamo bit3 andiamo a inserire la risposta in questo caso abbiamo il bit4 e andiamo ad inserire praticamente la risposta possiamo già andare a fare un primo test andremo a digitare inserendo il primo bit ad esempio 0 poi 1 1 1 ok a questo punto come faremo a convertire andiamo quindi al nostro file che abbiamo preparato prima e quindi sostanzialmente come dicevamo num decimale dovrà essere pari a bit4 quindi la variabile bit4 che andrà a moltiplicare 8 poi questo risultato dovrà essere sommato a bit3 moltiplicato per 4 ancora sommato a bit2 moltiplicato per 2 ed infine a bit1 moltiplicato per 1 ma questo potremmo anche ometterlo per comprimere il più possibile la nostra funzione allora andremo ora a vedere come implementare appunto l'ultima parte della procedura come faremo? andremo a gestire sia la somma che il prodotto di alcune variabili quindi andremo a prendere un po' di operatori e iniziamo quindi si inizia sostanzialmente con come avevo detto prima con bit1 partendoci con questo caso dal meno significativo e abbiamo quindi sulla variabile prendiamo la variabile bit1 questa variabile bit1 andrà ad essere sommata a bit2 che andrà ad essere moltiplicata per 2 poi bit3 sarà moltiplicata per 4 bit4 che deve essere moltiplicata per 8 quindi andiamo ad inserire bit2 poi abbiamo bit3 e bit4 andremo ad inserire questo elemento qui dentro e infine questo elemento qui dentro allora questa variabile in questo caso non decimale sarà proprio pari a questo a questo elemento quindi in questo caso noi abbiamo già subito la possibilità di fare un test veloce quindi inserendo il primo bit 0 0 0 1 noi abbiamo già effettuato la conversione possiamo andare a utilizzare un operatore di unione il numero decimale ok con due punti qua andiamo sulla nostra variabile numero decimale lo inseriamo qui dentro faremo dire appunto ok un altro test 1 1 1 1 il numero decimale è 15 finito il l'implementazione di questo semplice progetto vi aspetto quindi sul canale youtube sulla pagina facebook dove verrà aggiornata costantemente con con nuovi con nuovi video e nuove e nuove chicche digitali va bene allora una buona giornata a tutti al prossimo video ciao